Sgominata dalla squadra mobile della Spezia una banda esperta di borseggi e furti in appartamento. Allagamenti nell'ospedale Sant'Andrea, botta e risposta tra il consigliere regionale Ugolini e l'assessore Grattarola. No al disegno di legge per l'autonomia differenziata delle regioni, la CGL in piazza con musica, parole e immagini. Le problematiche legate al fenomeno dell'over-tourism al centro di un convegno a Roma promosso dal Parco delle Cinque Terre. Domani, 14 febbraio, San Valentino, poste italiane celebra la festa con colorate cartoline filateliche. Benvenuti al TLS giornale di Tele Liguria Sud, nel caso di martedì 13 febbraio 2024. Tre arresti e una denuncia. Una banda esperta di borseggi e furti in appartamento è stata fermata dalla squadra mobile della Spezia. Ieri sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare. Il gruppo aveva preso di mira persone anziane, ultraottantenni, mettendo a segno cinque colpi in pochi mesi. Sentiamo la cronaca di Chiara Alfonzetti. Le immagini sono di Davide Morina. Hanno messo a segno cinque colpi nei quartieri di Migliarina, Mazzetta e Centro Storico, tra marzo e dicembre. Preso di mira persone molto anziane, tra gli 80 e i 90 anni, utilizzando il solito modus operandi. Si presentavano ben vestiti e accoglienti insospettabili, fingendo di essere nuovi vicini di casa, oppure millantavano di voler aiutare gli anziani in piccoli gesti quotidiani. Ma le loro intenzioni erano ben peggiori. Puntavano a prendere denaro e chiavi di casa delle malcapitate vittime, per poi introdursi all'interno delle abitazioni per svaliggiarle. Una volta svuotati gli appartamenti, facevano ritrovare alle vittime le chiavi proprio vicino a casa. Si tratta di una batteria di soggetti trasfertisti, già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che agivano in una maniera ben collaudata. Delle donne apparentemente insospettabili, eleganti, caratterizzate da una buona loquacità, avvicinavano le vittime del reato che venivano prescelte tra persone anziane, con una scusa entravano in relazione con loro o presentandosi come delle vicine di casa nuove o per aiutarle ad attraversare la strada o a conferire la spazzatura. Insomma, cercavano una situazione per loro favorevole. Nell'occasione riuscivano a carpire l'indirizzo e il cognome della persona e sfilando le chiavi di casa dalla borsetta o dal giubbotto le passavano poi dei complici che effettuavano materialmente il furto in abitazione. A smantellare la banda è stata la Polizia di Stato che nella giornata di ieri ha dato esecuzione alle misure di custodia cautelare a carico di due donne e un uomo sulla cinquantina accusati di furto aggravato in concorso. Un quarto uomo è stato denunciato. Il gruppo avrebbe raccimolato un bottino del valore di decine di migliaia di euro. Ieri tra Milano e Cuneo abbiamo tratto in arresto due donne e un uomo mentre un altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà. La cosa particolare è che ieri quando siamo andati ad eseguire le misure a Cuneo dove questi soggetti abitano stabilmente due di loro erano partiti per effettuare una nuova trasferta in un'altra località italiana quindi erano in provincia di Milano dove li abbiamo raggiunti e abbiamo eseguito la misura. I tre arresti eseguiti dalla squadra mobile della Spezia che per la loro esecuzione si sono spinti fino a Cuneo hanno acceso la luce anche sulla prevenzione. Il capo della squadra mobile, Alessandro Pescara di Diana ha dato alcuni consigli su come difendersi. Sentiamo, le immagini sono di Davide Morina. Colgo l'occasione, visto che siamo in questa sede, di lanciare un appello a prestare la massima attenzione. Ci sono delle persone che vivono di questi reati peraltro alcune vivono anche bene di questi reati che fruttano e quindi stiamo attenti a non fornire informazioni alle persone che si incontrano, che non conosciamo casualmente, che ci fanno domande sul nostro luogo di residenza, sul cognome. Portiamo chi ha le borsette a tracolla, magari con la cerniera chiusa. Evitiamo di dare possibilità maggiori a chi commette i furti. Un altro consiglio quando si va al supermercato a fare la spesa è di non lasciare la borsa incustodita sul carrello in quanto qualche persona malintenzionata potrebbe impossessarsi non solo del portafoglio, come è già successo tante volte, ma come questa batteria, anche delle relative chiavi che con un documento di identificazione è ben presto facile trovare l'abitazione per derubarla. Dopo l'ultimo allagamento avvenuto nell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, il consigliere regionale Paolo Ugolini del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta che il pronto soccorso e il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Andrea siano completamente e stabilmente operativi con i standard di qualità necessari. Il consigliere ha ricordato le infiltrazioni di acqua del 7 gennaio scorso dal tetto del reparto. L'assessore alla Sanità, Angelo Grattarola, ha risposto che la situazione del Sant'Andrea è quella di un edificio vetusto e che il problema rimarrà fino a quando non entrerà in funzione il nuovo ospedale del Felettino. L'assessore ha precisato che, dunque, non è stata programmata una ristrutturazione del Sant'Andrea ma si procede con interventi che servono a mantenere funzionante l'ospedale. Questa mattina alla Spezia la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL attraverso musica, parole e disegni ha manifestato contro il disegno di autonomia differenziata voluto dal Governo. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maurella. La carovana FLC-CGL sbarca anche alla Spezia e sta facendo un giro in tutta Italia per ribadire che la scuola è una e unica in tutta Italia quindi siete pronti a battagliare contro il progetto di autonomia differenziata. Sì, assolutamente. Questa è solo una delle tappe della carovana. Abbiamo deciso di essere qui, di essere in pubblica piazza e abbiamo avuto intorno tantissimi lavoratori della conoscenza perché per noi questo è un passaggio assolutamente fondamentale. Il disegno di legge Calderoli prevedendo anche per l'istruzione la regionalizzazione è un pericolo che noi non ci possiamo permettere di correre. La scuola ha bisogno di risorse, ha bisogno di essere potenziata, sicuramente non ha bisogno di essere spezzettata. Abbiamo montato un pannello con l'Italia unita e non è retorica e noi crediamo che la scuola sia quel presidio di democrazia che ci consentirà di tenere unito il paese e quindi ci batteremo fino alla fine. Attraverso ciò che imparano i ragazzi a scuola si forma la cultura di base di un paese. Questo progetto dell'autonomia differenziata perché dal vostro punto di vista è così pericoloso? Noi siamo molto preoccupati perché il progetto di autonomia differenziata va proprio a mettere in discussione l'unitarietà del paese, la possibilità che in tutti i territori, in tutte le regioni ci sia la medesima offerta formativa, la medesima qualità di istruzione. Ciò sarà reso impossibile, secondo noi purtroppo, se passerà questo disegno che noi intendiamo contrastare, perché ci saranno appunto delle risorse differenziate proprio sulla base di quella che è la potenzialità economica di ciascuna regione. Già in oggi ci sono delle grandi differenze tra regione e regione e non solo fra nord e sud, ci sono appunto delle differenziazioni territoriali ma ci sono delle differenziazioni di punto di natura economica e sociale e purtroppo saranno accentuate. E' un mettere in discussione proprio i presupposti della Carta Costituzionale, la coesione sociale, la tenuta democratica di un paese che secondo noi passa attraverso la qualità dell'istruzione e la scuola pubblica. Il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta a che punto è la procedura amministrativa del biodigestore a Salicetti nel comune di Vezzano Ligure. Il consigliere ha rilevato che il commissario nominato per l'avvio dall'Agenzia Ligure per i rifiuti dovrebbe conoscere l'istruttoria avviata da ANAC sull'affidamento in project financing per realizzare l'impianto e delle eventuali integrazioni o contradduzioni richieste dall'autorità anticorruzione. L'assessore al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha risposto che il progettimento è stato svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali. L'assessore ha ricordato anche che ha istituito un tavolo di lavoro con la provincia della Spezia per le attività propedeutiche all'avvio dei cantieri previsto per la fine di febbraio. OVAR Tourism, riflessioni per la tutela del patrimonio nazionale ed un turismo sostenibile. L'evento, organizzato dal Parco delle Cinque Terre in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, ha offerto un momento di riflessione e di confronto su un tema complesso che accomuna diverse destinazioni del patrimonio nazionale. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. 3,4 milioni di afflussi turistici nel 2023 sono i numeri che raccontano, rischiando di comprometterlo per sempre, il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Tre comuni per un totale di 4.000 abitanti in 4.000 ettari di territorio, con affinità che le avvicinano anche se con presupposti diversi alle problematiche delle grandi città d'arte come Venezia o Firenze, al centro oggi di un convegno dal titolo Overtourism, riflessioni per la tutela del patrimonio nazionale e un turismo sostenibile, evento organizzato a Roma dal Parco Nazionale delle Cinque Terre in collaborazione con la Commissione Europea. Per controllare il fenomeno, che va di pari passo con la crescita dell'industria turistica, è stato detto, si studiano formule per gestire al meglio le presenze e per regolamentare gli accessi, promuovendo il turismo fuori stagione con misure di programmazione delle prenotazioni e sensibilizzando i visitatori. Nell'arco della mattinata sono state prese in esame esperienze diverse, tra cui quelle delle città di Firenze e di Venezia e della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Un focus particolare è poi stato dedicato al caso del Parco delle Cinque Terre attraverso lo studio dei flussi turistici e delle soluzioni intraprese per la salvaguardia dei suoi fragili territori verticali come l'adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile, l'analisi degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Parco e il suo piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2030 nel mondo ci saranno 2 miliardi di viaggiatori e la gestione dei flussi è uno dei problemi strutturali cui si deve occupare la politica, tra le possibili soluzioni, tariffe variabili, modelli gestionali con intelligenza artificiale, prenotazioni obbligatorie, infrastrutture. Presenti la Presidente del Parco, Donatella Bianchi, l'assessore regionale al turismo Ilaria Cavo, folta la presenza e attenta la partecipazione anche da parte di parlamentari e deputati, tra cui le spezzine Maria Grazia Fria e Stefania Pucciarelli e in collegamento da Bruxelles il deputato europeo Brando Benifei. Ha concluso i lavori lo scrittore e sceneggiatore Paolo Cognetti, portando a riflettere la platea sulla presenza di turisti in ogni angolo del pianeta e sulla destinazione quale metafora del viaggio. Nel pomeriggio di ieri, 12 febbraio, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Andrea De Gennaro ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia. Il Comandante Generale, dopo aver partecipato ad un briefing illustrativo del contesto socio-economico del territorio, delle attività svolte dal Comando Provinciale in tutti i settori operativi, della situazione del personale, della logistica, ha incontrato per un breve saluto le massime autorità della provincia spezzina. L'alto ufficiale ha espresso poi parole di apprezzamento per l'impegno profuso dai finanzieri spezzini per i risultati di servizio conseguiti nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali. La Giunta Comunale di Porto Venere ha approvato nei giorni scorsi le agevolazioni tariffarie per la tassa su rifiuti 2023 per l'unità immobiliare e domestica di residenza. Si tratta di un contributo sociale in misura totale o parziale del tributo ai nuclei familiari in condizioni economiche e sociali disagiate. La modulistica per inoltrare la domanda reperibile presso l'ufficio URP e nella sezione modulistica del sito del Comune di Porto Venere dovrà essere presentata dal 7 febbraio al 7 marzo 2024 entro le ore 12 all'indirizzo protocollo-pec.comune.portovenere.sp.it Oltre ai 150 iscritti provenienti da tutta Italia per partecipare ad un corso di formazione riservato agli operatori di polizia organizzato dall'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia con il patrocinio dei comuni di Aulla e Fivizzano. Vediamo il servizio di Sergio Di Opini. La Lunigiana sarà teatro venerdì 16 febbraio di un importante convegno a livello nazionale riservato agli operatori di polizia organizzato dall'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia con il patrocinio dei comuni di Aulla e Fivizzano. L'evento, strutturato in due fasi una teorica e l'altra pratica vede al momento la partecipazione di oltre 150 iscritti provenienti da tutta Italia. Relatori, la dottoressa Maria Cristina Failla già presidente del Tribunale di Massa che tratterà il tema della legittima difesa tra dottrina e giurisprudenza. Seguirà l'intervento dei medici psichiatri Leonardo Moretti, consulente per i tribunali di Roma, Genova e La Spezia e Giuseppe Ruffolo, formatore presso il Centro Studi di Psicopatologia Investigativa che tratteranno il tema quando monta la rabbia riconoscerne i segnali prodromici. Seguiranno esercitazioni pratiche e tecniche operative di polizia sotto la guida del vice brigadiere Francesco De Benedittis della Guardia di Finanza della Spezia e istruttori di tecniche operative all'interno del corpo che tratterà le tecniche per la gestione e il trasporto del soggetto fermato. Chiuderanno il convegno Giacomo Vierucci e Stefano Livierato addestratori cinofili specializzati che illustreranno in esercitazioni pratiche con cani addestrati l'importanza dell'ausilio per gli operatori di polizia delle unità cinofile nella ricerca per esempio di persone sostanze stupefacenti ed esplosivi. Il convegno si tiene ad Aulla presso la palestra del Centro Sportivo Salvo d'Acquisto di Via Sprini in località Quercia. L'iscrizione al corso è gratuita inviando una mail all'indirizzo scuolaformazione.convegni-gmail.com L'amministrazione comunale della Spezia aderisce alla giornata mondiale delle cardiopatie congenite e per l'occasione domani sera, mercoledì 14 febbraio, la facciata di Palazzo Civico verrà illuminata di rosso per sensibilizzare i cittadini su questa patologia. promotore dell'iniziativa in Italia è l'associazione Piccoli Cuori ODV. L'ente è nato nel 1998 per volere di un gruppo di genitori i quali si sono uniti per sostenere altre famiglie in questi delicati frangenti di vita e accompagnarli nel percorso medico. L'associazione è attiva presso i reparti di cardiologia e cardiochirurgia dell'Istituto Gaslini di Genova e anche il Comune di Porto Venere ha aderito all'iniziativa lanciata dall'associazione Piccoli Cuori per far luce sulle problematiche tipiche di chi nasce con una cardiopatia congenita sensibilizzare e far conoscere questa realtà. Poste italiane, come ogni anno, celebrano la festa degli innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro presso l'ufficio postale La Spezia Centro nei 10 spazi o filateli al territorio nazionale e online su poste.it Inoltre, dal 7 al 14 febbraio prossimi sarà disponibile anche un annullo speciale. Le cartoline puzzle con la relativa busta sono in vendita nei punti dedicati al prezzo di 5 euro l'una. Don Manrico Mancini, direttore dell'ufficio per la pastorale Missionario e Samuele Bragazzi partiti due settimane fa per il Camerun stanno affrontando un'esperienza di missione che condividono con noi attraverso alcuni servizi. Questa sera li abbiamo sentiti insieme a Suor Lucia ospiti della parrocchia camerunense. Ascoltiamo. Salutiamo Don Manrico, Samuele e Suor Lucia. Allora, 15 giorni lontano da casa ragazzi. Come sta andando? Manrico? Ma sta andando molto bene sta andando. A gonchi e vele. A gonchi e vele, veramente. Grandi, belle, profonde esperienze. Davvero. Nostalgia di casa? Niente. Per ora no, dai. Siamo accolti a casa qui. Assolutamente come essere a casa. Ed era quello che voleva... La differenza di temperatura, ma... C'è un po' caldo, ecco. Poi per il resto va bene. Era quello che volevamo sentirvi dire, insomma. La Chiesa Universale fa sentire tutti a casa in qualsiasi parte del mondo. Don Manrico, so che c'è stata una settimana un po' impegnativa. Innanzitutto ti sei trovato a fare le veci del parroco in qualche modo e quindi a celebrare le messe della comunità in sostituzione di Padre Raffaele che non si è sentito tanto bene. Che esperienza è stata? Sì, diciamo più che altro che sta poco bene il fratello di Padre Raffaele, quindi ha dovuto partire improvvisamente e allora appunto le varie attività pastorali le ho portate un po' avanti io insieme, io non da solo, ero col diacono, con Samuele, con sua Lucia, con padre... col vicario, col vicario parrocchiale e quindi siamo andati a portare le comunioni ho anche confessato e ho celebrato le messe in francese. Si è lanciato brillantemente in francese, timidamente e poi dopo ormai... in un'unità lo francese, però sì... No, no, è bravo, coraggiante. Andare a trovare i malattie mi era capitato anche in diocesi ma sicuramente poterlo fare qui in un'altra dimensione è stata una grande novità intanto perché ti rendi conto che ci sono certe situazioni che neanche potremmo immaginare, anche a volte di misera, di povertà, di difficoltà ma allo stesso tempo ne sono uscito anche un po' arricchito perché tutte queste persone che hanno ricevuto la comunione sono veramente delle sante persone, dei fedeli cristiani che hanno costruito la parrocchia, l'hanno vista crescere e che ora si trovano in infermità ma hanno una fede veramente profonda che mi hanno trasmesso proprio in pieno quindi sono stati per me degli esempi fondamentali. L'intervista completa questa sera ore 21 in Essere Chiesa Oggi Sicurezza sul lavoro aperte le iscrizioni per il corso obbligatorio di RSPP organizzato da Confcommercio Imprese per l'Italia alla Spezia il corso rivolto ai datori di lavoro permetterà di apprendere le conoscenze di base necessarie per svolgere con consapevolezza l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Alvia domani 14 febbraio nuove sessioni del corso abilitante per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con una durata di 100 ore il corso si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 il corso è valido in tutta Italia per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all'ufficio formazione Confartigianato La Spezia Nuovo appuntamento con il cartellone generale di spettacoli al teatro civico della Spezia giovedì alle 21 Luca Bizzarri sarà sul palco con Non hanno un amico spettacolo scritto dallo stesso Bizzarri con Ugo Ripamonti Non hanno un amico è ispirato all'omonimo podcast edito da Cora Media che nell'ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire Non hanno un amico un intercalare comune e diffusissimo Biglietti disponibili su Ticket One e presso il botteghino del teatro civico Al Via la nuova programmazione cinematografica del Cinema Odeon della Mediateca regionale Ligure Fregoso in via Firenze fino a mercoledì 21 febbraio è prevista una doppia programmazione che ha inizio il giorno di San Valentino con l'evento Odeon in Love con l'anteprima nazionale di Finalmente l'alba e Sound of Freedom il canto della libertà un evento cinematografico che arriva in Italia anticipando quello che sarà il film evento dell'estate americana a poco più di un secolo dalla morte di Italo Calvino è ancora vivo l'interesse per la complessa figura letteraria del grande scrittore Ligure e fermano gli studi che ne mettono in luce anche gli aspetti forse meno conosciuti in quest'ottica si inserisce il volume che sarà presentato per iniziativa della Dante Alighieri della Spezia giovedì pomeriggio ore 16 all'auditorium del liceo Pacinotti si tratta dell'opera di Daniela Cassini e Sara Clark Italo Calvino il partigiano Santiago dove le autrici indagano il ruolo attivo che ebbe Calvino nella resistenza italiana e per quanto riguarda lo sport parliamo un attimo di hockey su pista il Gamma Innovation hockey Sarzana dopo aver pressoché surclassato in campionato il Bassano del Grappa si rituffa sulla scena europea seguiamo il servizio è un 5 a 2 rifilato al Palatori al Bassano del Grappa con cui i rossoneri rinforzano la propria terza posizione in Serie A1 nazionale il risultato o meglio il successo con cui il Gamma Innovation Sarzana sembra volersi caricare in vista del prossimo impegno quello che è sabato prossimo sempre al vecchio mercato sul fronte europeo lo opporrà al Monza in WSE Cup in un quarto di finale della competizione tutto italiano l'ambizione dei sarzanesi tutti lo sanno è quella di qualificarsi per la cosiddetta Final Four che la porterebbe o meglio porterebbe i rossoneri appunto alla fase finale a quattro del torneo allora Simone di gol te non ne puoi fare però ce la puoi raccontare no? questa vittoria per 5 a 2 no? in fine conti beh purtroppo sì non posso fare gol ma spero di dare il mio contributo comunque cercando di farne fare il meno possibile è stata una partita convincente una bella vittoria che ci dà fiducia e soprattutto ci consolida il terzo posto da soli siamo a ridosso delle prime siamo lì e vogliamo continuare a fare questo campionato di testa ma io direi che siete tra le prime in fine conti siete sul podio quindi ascolta il prossimo impegno perdona l'ignoranza è ancora campionato o è tempo di coppa già? è tempo di coppa abbiamo una bellissima opportunità abbiamo un derby tutto italiano ai quarti di finale di Coppa di Coppa Cers e niente il nostro obiettivo è arrivare in Final Four sarebbe un obiettivo magico e quando poi c'è magia chissà cosa succede questo per quanto riguarda il calcio e più specificamente lo Spezia il giudice sportivo si è espresso dopo la 24esima giornata del campionato di Serie B con sanzioni e squalifiche a club e tesserati nessun squalificato fra gli aquilotti mentre il negro del Cittadella salterà lo Spezia non ci sono nuovi diffidati e a rischio restano i soli Elia e Bandinelli con Nicolau e Cassata che alla prossima munizione entreranno in difida sono invece ben nove i club multati fra questi anche lo Spezia 2000 euro di ammenda per lancio nel recinto di gioco di due petardi da parte dei suoi sostenitori e con ciò siamo in conclusione però non mancano le previsioni meteorologiche a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria da parte nostra un vivo ringraziamento per l'attenzione anche di stasera e l'augurio di un felice proseguimento di serata ovviamente su Tele Liguria Sud una buona serata a tutti da Daniele Gallo continua il dominio dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale è in grado di portarci giornate stabili e temperature sopra la media del periodo ma veniamo i dettagli per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 14 febbraio al mattino lungo la fascia costiera nuvolosità di tipo basso sarà presente e in graduale estensione dallo spezzino verso il Savonese altrove il cielo sarà generalmente sereno poco nuvoloso nel corso del pomeriggio si faranno spazio delle schiarite su tutta la regione anche se della nuvolosità residua persisterà soprattutto sul Savonese i venti saranno a regime di brezza il mare poco mosso e infine le temperature queste saranno stazionarie i valori minimi costieri oscilleranno tra 7 e 11 gradi mentre quelli massimi tra 15 e 18 gradi se volete maggiori informazioni sul tempo di domani dei prossimi giorni potete visitare il sito centrometeoligure.com di domani e Grazie a tutti.